Peppa la porca, e Peppa la porca pure non è male Peppa la porca Pimpa, la pimpa io la conno, la pimpa fa schifo Teen Titans, quello mi ricordo è anche Poe Patrol no? Poe Patrol è famoso adesso E non guardo la tv da un sacco di anni, fai bene va a fanbar la tv Gli anime, gli anime sono meglio sicuramente di questi cartoni Eh mio parere, gli anime sono sicuramente meglio Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh era serio mi ricordo, mi piaceva anche a me Yu-Gi-Oh, abbastanza Drago bianco, com'è che era? Drago bianco chi blu? No? Drago drago chi draghi? Era bello I Pokémon devo dire che vedo che sono un po' Cioè non tanti giovani seguono le robe dei Pokémon Cioè voi ragazzi non vi piacciono i Pokémon Cioè almeno a molti sì, però a tanti non piacciono i Pokémon Quando ero bimbo io, tutti eravamo fissati con i Pokémon, eh Tutti Vabbè ma ci sta, eh, magari che cambiano un po' le cose Mr Bean, Mr Bean fa spaccare Mr Bean è che in grado Peppa la porca E Peppa la porca pure, eh, non è male Peppa la porca, eh E Peppa la porca, eh, non è male Kate